La serra è il fiore all'occhiello del lavoro dei ragazzi della Fondazione Sacra Famiglia. Posta all'ingresso del villaggio, offre tutto l'anno al pubblico il risultato del lavoro quotidiano della comunità. I ragazzi hanno un progetto dietro e degli obiettivi. Attraverso il lavoro noi arriviamo al raggiungimento di questi obiettivi, lavorando con del materiale vivo. Quindi noi gli insegniamo proprio rispetto verso la pianta. L'obiettivo loro ce l'hanno proprio da progetto. Potrebbe essere il raggiungimento di migliorare la loro manualità fine, lo stare insieme anche agli altri ragazzi. Noi partiamo con il seminare. Abbiamo questi plateau dove facciamo mettere la terra. Dopodiché devono prendere il semino. Poi la piantina cresce, quindi loro vedono lo sviluppo. A gennaio arrivano le primule che sono coloratissime. Quindi utilizziamo questi bancali pieni di colori per distinguerli. Per cui c'è il ragazzino che magari deve imparare a discriminare il rosso, prende tutte le primule rosse e ce le sposta per poi arrivare a fare un passaggio superiore, non lo so, tipo per i pomodori raccogliere quelli più maturi rispetto agli altri. Qui entra una clientela che rimane sicuramente affascinata nel vedere i ragazzi che lavorano con attenzione, con comunque concentrazione e con passione anche. E poi quando questi lavori vengono poi venduti perché crescono, la soddisfazione sicuramente è maggiore, perché insomma sanno di aver fatto un acquisto due volte importante. L'idea della vendita dei prodotti è iniziata come vendita dei prodotti agricoli, quindi qui in Serra. Siccome produciamo circa 7 tonnellate di verdura all'anno, a questo è stato poi affiancato un negozio che provvede alla vendita di ciò che viene prodotto negli altri laboratori. Dopo tanti anni che tu lavori, loro ti vedono quasi come parte della loro famiglia, specialmente per i ragazzi che sono residenziali, che vivono qui. Solamente in questo anno, in questo atelier, sono inseriti 56 ragazzi. Vanno da ragazzino di 17 anni fino al 65-70 anni. Alcuni ti danno veramente una soddisfazione più palpabile perché vedi proprio i miglioramenti. Ogni piccolo successo che viene raggiunto è un successo per noi e per loro. Quando arrivano ci abbracciano, ci fanno i complimenti. È quasi una festa per loro uscire dalla routine quotidiana per ritrovarsi in un ambiente amico, ecco, con persone viste come amiche. Dal 1896 siamo la famiglia che aiuta le famiglie.